Mio caro amico, disse Sherlock Holmes mentre ci sedevamo l'uno di fronte all'altro accanto al caminetto nell'appartamento di Baker Street. La vita è infinitamente più strana di qualunque fantasia che la mente di un uomo possa concepire. Non oseremmo immaginare cose che in effetti non sono che eventi comuni della nostra esistenza. Se potessimo volare fuori da quella finestra a mano nella mano, volteggiare sopra questa grande città, gentilmente scoperchiare i e sbirciare le cose singolari che stanno accadendo, le coincidenze bizzarre, i progetti, le finalità contrastanti, il meraviglioso scatenarsi degli eventi nell'arco delle generazioni e i risultati quanto mai U3 che ne conseguono, qualsiasi romanzo con i suoi convenzionalismi e le sue conclusioni scontate, apparirebbe vecchio e inutile. Ancora non ne sono convinto, risposi. I casi che vengono messi in luce sui giornali sono, come di regola, abbastanza semplici e volgari. Abbiamo nei nostri verbali di polizia il realismo spinto ai suoi limiti estremi e tuttora il risultato non è, confessiamolo, né affascinante né artistico. Per produrre un effetto realistico deve essere usata una certa selezione e discrezione, osservò Holmes. Questo è assente nei verbali di polizia, dove maggior sforzo e attenzione sono posti forse sulle insulsaggini del magistrato che sui particolari, che per un osservatore contengono l'essenza vitale dell'intera faccenda. Dipende da ciò. Non c'è niente di più naturale dell'ovvio. Sorrisi e scossi il capo. Capisco che lei la pensi così, risposi. Certamente nella sua qualità di consulente non ufficiale e aiuto per chi è molto disorientato in tre continenti, lei viene in contatto con tutto ciò che è strano e bizzarro. Ma ecco, raccolsi da terra il giornale del mattino, facciamo una prova pratica. Il primo titolo che mi capita è Crudeltà di un marito nei confronti della moglie. C'è una mezza colonna, ma anche senza leggerla so già benissimo di cosa si tratta. C'è beninteso un'altra donna, il bere, gli spintoni, le botte, i lividi, la sorella o la padrona di casa comprensiva. Il più grossolano degli scrittori non potrebbe immaginare nulla di più grezzo. In verità, è un esempio infelice per la sua tesi, disse Holmes prendendo il giornale e dandogli un'occhiata. Questo è il caso di separazione dei Dandas e come capita fu incaricato di far luce su alcuni piccoli particolari ad esso collegati. Il marito era stemio, non c'era un'altra donna e la condotta di cui ci si lamentava era l'abitudine, alla fine di ogni pasto, di levarsi la dentiera e lanciarla addosso alla moglie, il che ammetterà non è un comportamento che verrebbe mai in mente al narratore medio. Prenda una presa di tabacco, dottore, e ammetta che questa volta ho segnato io. Mi allungò la sua tabacchiera di vecchio oro con una grossa ametista nel centro del coperchio. Il suo splendore era così in contrasto con le sue abitudini casalinghe e semplici che non potei evitare di farglielo notare. «Ah», disse, «dimenticavo che non la vedo da qualche settimana. È un piccolo souvenir del re di Bohemia per ringraziarmi del mio aiuto nel caso dei documenti di Irene Adler». «Ell'anello?», chiesi, osservando un brillante di ragguardevoli dimensioni che scintillava al suo dito. «L'ho ricevuto dalla famiglia regnante dell'Olanda, anche se il caso che ho risolto per loro era di tale delicatezza che non posso confidarlo nemmeno a lei». «E' stato tanto gentile da raccontare per iscritto uno o due dei miei piccoli problemi». «E adesso? Ne ha qualcuno per le mani», domandai con interesse. «Dieci o dodici, ma nessuno che susciti particolare interesse. Sono importanti, capisce, senza essere interessanti. Anzi, credo che sono proprio le cose non importanti ad offrire il migliore campo di osservazione e la possibilità di analizzare in modo veloce cause ed effetti che è quello che rende affascinante un'investigazione. I crimini più gravi sono in generi più semplici, in quanto più grande è il crimine, più è ovvio, come di regola, il movente. In questi casi, salvo per una storia piuttosto intricata che mi è stata affidata da Marseille, non c'è nulla che presenti aspetti interessanti. È possibile comunque che fra qualche minuto io possa avere qualcosa di meglio. Se non sbaglio, infatti, sta arrivando uno dei miei clienti». Si era alzato dalla sua sedia e stava in piedi tra le persiane accostate per guardare giù nella monotona strada dalle caratteristiche tinte neutri di Londra. Guardando da sopra la sua spalla, vidì che sul marciapiede opposto stava un donnone con un grosso boa di pelliccia attorno al collo e una larga piuma rossa arricciolata sul cappello a tesa larga e inclinato sull'orecchio, secondo lo stile civettuolo della duchessa di Devonshire. Da sotto questa grande panoplia, il donnone occhieggiava in modo nervoso ed esitante le nostre finestre, mentre il suo corpo oscillava avanti e indietro e le sue dita giocherellavano coi bottoni dei guanti. All'improvviso, con un tuffo tipico di un nuotatore che lascia la riva, attraversò in fretta la strada e sentimmo lo squillo vivo del campanello. «Ho già visto prima quei sintomi», disse Holmes gettando la sigaretta nel fuoco. «Oscillare sul marciapiede significa sempre un affare de coeur. Vorrebbe un consiglio, ma non è sicura che l'argomento non sia troppo delicato per raccontarlo, anche se si può fare una distinzione. Quando una donna è stata seriamente offesa da un uomo non oscilla più, il sintomo più usuale è un cordone di campanello rotto. In questo caso possiamo supporre che si tratti di un affare di cuore, ma la fanciulla non è tanto infuriata quanto perplessa e afflitta». Ma eccola che arriva di persona a risolvere i nostri dubbi. Mentre parlava, bussarono alla porta e il fattorino entrò per annunciare la signorina Mary Sutherland, mentre la damma in persona si profilava dietro la sua piccola figura scura, come un mercantile a vele spiegate, dietro una minuscola nave pilota. Sherlock Holmes la colse con la semplice cortesia per cui era proverbiale, e dopo aver chiuso la porta ed averla fatta accomodare in poltrona, la guardò per un minuto con quel suo sguardo fascinoso e astratto. «Non trova», disse, «che con la sua miopia sia un po' stancante battere tanto a macchina?». «In principio sì», rispose, «ma adesso so dove sono le lettere senza guardare». Poi rendendosi all'improvviso conto delle sue parole, sobbalzò con violenza e alzò gli occhi con un'espressione di paura e stupore dipinta sulla faccia larga e cordiale. «Lei sa chi sono, signor Holmes?», esclamò. «Altrimenti, come potrebbe sapere tutto questo?». «Non è importante», rispose Holmes ridendo. «Sapere le cose è il mio lavoro. Forse mi sono allenato a vedere ciò che gli altri non vedono. Se non fosse così, perché verrebbe a consultarmi?». «Sono venuta da lei, signore, perché ne ho sentito parlare dalla signora Etheridge, di cui ha ritrovato così facilmente il marito dopo che la polizia e chiunque altro l'avevano dato per morto. Oh, signor Holmes, vorrei che potesse fare altrettanto per me. Non sono ricca, ma dispongo ancora di cento sterline l'anno, oltre a quel poco che faccio battendo a macchina, e darei tutto per sapere cos'è successo al signor Osmer Angel. Perché è uscita con tanta fretta per venire a consultarmi?», chiese Sherlock Holmes con la punta delle dita congiunte guardando il soffitto. Di nuovo un'aria spaventata si dipinse sul volto un po' vacuo della signorina Mary Sutherland. «Sì, sono uscita di casa sbattendo la porta», disse, «perché mi faceva rabbia vedere con quale calma il signor Windybank, cioè mio padre, prendeva la cosa. Non voleva andare alla polizia, non voleva venire qui, e così alla fine, visto che non voleva fare niente, continuava a ripetere che non era stato fatto alcun danno, mi sono infuriata e con le mie cose sono venuta direttamente da lei». «Suo padre», ripete Holmes. «Il suo patrigno, certo, visto che il cognome è diverso». «Sì, il mio patrigno. Lo chiamo lo stesso padre, anche se suona buffo dal momento che ha solo cinque anni e due mesi più di me». «E sua madre è viva?» «Oh sì, mia madre è viva e vegeta. Non sono stata proprio entusiasta, signor Holmes, quando si è risposata così presto dopo la morte di mio padre e con un uomo di quasi 15 anni più giovane di lei. Mio padre faceva l'idraulico a Tottenham Court Road e ha lasciato un'attività ben avviata che mia madre ha mandato avanti col signor Hardy, il caposquadra. Ma quando è comparso il signor Windy Bank, l'ha costretta a dar via l'attività perché lui si riteneva superiore essendo rappresentante di vini. Hanno fatto 4.700 sterline tra avviamento e interessi, che non era nemmeno vicino a quanto ci avrebbe fatto mio padre se fosse stato ancora vivo». Mi ero aspettato di vedere Holmes spazientirsi a quel racconto così caotico e illogico, ma al contrario, lo aveva ascoltato con la più grande attenzione e concentrazione. «La sua piccola rendita», domandò, «proviene dall'impresa?» «Oh no, signore, è una cosa a parte e mi è stata lasciata da mio zio Ned di Auckland. È in azioni neozelandesi, interesse del 4,5%. Il capitale era di 2.500 sterline, ma io posso toccare solo gli interessi». «La sua storia è estremamente interessante», disse Holmes. «E dato che lei dispone della bella cifra di 100 sterline l'anno, oltre a quello che è il suo guadagno personale, senza dubbio viaggerà e si toglierà ogni soddisfazione. Credo che una signora sola possa vivere molto comodamente con una rendita di circa 60 sterline». «Potrei anche molto meno, signor Holmes, ma capirà che fino a quando vivrò a casa non vorrei essere di peso per loro, quindi sono mia madre e il mio patrigno ad amministrare i miei soldi. Naturalmente è solo per un po'. Il signor Windybank ritira i miei interessi ogni quadrimestre e li consegna a mia madre e trovo che me la cavo benissimo con quello che guadagno facendo la dattilografa. Mi pagano due penni a pagina e riesco spesso a fare dalle 15 alle 20 pagine in un giorno». «Mi ha illustrato la situazione in modo molto chiaro», disse Holmes. «Questo è il mio amico, il dottor Watson, davanti al quale può parlare altrettanto liberamente che davanti a me. Gentilmente ci parli del suo rapporto con il signor Osmer Angel». Un rossore passò sul viso della signorina Sutherland mentre tormentava le frange della giacca. «L'ho incontrato per la prima volta al ballo dei gasisti», disse. «Erano soliti spedire i biglietti a mio padre quando era vivo e in seguito si sono ricordati di noi e li hanno mandati a mia madre». Il signor Winningbank non voleva che ci andassimo, non voleva che andassimo mai da nessuna parte. Si infuriava anche se volevo partecipare ad una festa della scuola domenicale. Ma quella volta ero decisa e ci andai. Che diritto aveva di impedirmelo? Diceva che il popolo non era adatto a noi quando tutti gli amici di mio padre sarebbero stati là e ha aggiunto che non avevo niente di adatto da indossare quando invece avevo il mio bel vestito di felpa rossa che non avevo mai nemmeno tirato fuori dall'armadio. Alla fine, quando ho capito che niente altro poteva essere fatto, se n'è andato in Francia per affari della ditta e mia madre e io siamo andate al ballo col signor Hardy, che era il nostro caposquadra, ed è stato là che ho incontrato il signor Osmer Angel. «Suppongo», disse Holmes, «che quando il signor Winningbank è tornato dalla Francia si sia molto infastidito perché siete andate al ballo». «Oh, l'aveva presa molto bene, rideva, mi ricordo, e ha alzato le spalle e ha detto che era inutile proibire qualcosa ad una donna perché avrebbe comunque fatto quello che voleva». «Vedo». Dunque, se ho capito, al ballo dei gasisti lei ha incontrato un signore che si chiama Osmer Angel. «Sì, signore, lo incontrai quella notte e il giorno dopo venne a chiedere se eravamo tornate a casa sane e salve e dopo che l'abbiamo incontrato...» «Voglio dire, signor Holmes, io l'ho incontrato due volte per fare una passeggiata, ma dopo che mio padre era tornato, il signor Osmer Angel non poté più venire a casa». «No?» «Bene, deve sapere che mio padre non andavano questo tipo di cose. Non voleva visite se poteva farne a meno e diceva che una donna dovrebbe essere felice nella propria ristretta cerchia familiare. Ma allora, come diceva mia madre, una donna vuole crearsi un ambiente proprio e io ancora non ce l'avevo». «Ma il signor Osmer Angel non tentò di rivederla». «Bene, dopo una settimana mio padre sarebbe ripartito per la Francia e Osmer aveva scritto per dire che sarebbe stato meglio e più salutare non vedersi finché non se ne fosse andato. Nel frattempo potevamo scriverci e lui lo faceva abitualmente ogni giorno. Ritiravo le lettere la mattina, così non era necessario che mio padre lo sapesse». «In questo periodo si era fidanzata con quel signore?» «Oh sì, signor Holmes, ci eravamo fidanzati alla prima passeggiata che avevamo fatto. Osmer, il signor Angel, era cassiero in un ufficio di Leadenhall Street e...» «Quale ufficio?» «Questo è l'aspetto peggiore, signor Holmes. Il fatto è che...» «Non lo so». «Allora dove abitava?» «Dormiva nel medesimo edificio». E non sa l'indirizzo. «No, so solo che era Leadenhall Street». Dove indirizzava le lettere?» «Al fermoposta dell'ufficio postale di Leadenhall Street. Diceva che se fossero arrivati in ufficio gli altri impiegati l'avrebbero preso in giro perché riceveva lettere da una signora. Così mi offrì di scriverle a macchina, come faceva lui con le sue, ma non ne volle sapere perché sosteneva che quando le scrivevo a mano mi sentiva come se gli fossi vicina, mentre se fossero state dattilografate si sarebbe frapposto un mezzo meccanico fra di noi. Questo le dimostra quanto mi fosse affezionato, signor Holmes, e quanto badava alle piccole cose». «Estremamente suggestivo», disse Holmes. «Da molto tempo il mio assiome è che le piccole cose sono di gran lunga le più importanti. Può ricordare qualche altro dettaglio sul signor Osmer Angel». «Era un uomo molto timido, signor Holmes. Preferiva che andassimo a passeggiare di sere invece che di giorno perché diceva che detestava farsi notare». Era molto riservato e gentile, perfino alla sua voce era cortese. Mi raccontò che da giovane aveva avuto l'angina e le ghiandole infiammate, e ciò lo aveva debilitato, lasciandogli la gola debole e un modo di parlare esitante, appena sussurrato. Era sempre ben vestito, in ordine, ma aveva gli occhi miopi come i miei e portava occhiali scuri per ripararsi dal riverbero del sole». «Bene, e cosa accadde quando il suo patrigno, il signor Windy Mank, ripartì per la Francia?» «Il signor Angel venne di nuovo alla casa e propose che ci sposassimo prima del ritorno di mio padre. Mi metteva un'angosciosa pressione e mi fece giurare sulla Bibbia che qualunque cosa fosse successa, io sarei stata sempre sincera con lui». «Mia madre disse che aveva ragione a farmi fare quel giuramento e che era un segno tangibile della sua passione. mia madre era sempre stata dalla sua parte fin dall'inizio e gli era perfino più affezionata di me. Allora, quando cominciarono a parlare di matrimonio entro una settimana, chiesi cosa avrebbe detto mio padre, ma entrambi mi risposero di non preoccuparmi di mio padre, ma solo di dirglielo a cose fatte. E mamma disse che avrebbe pensato lei a placarlo». «Questo fatto non mi piaceva molto, signor Wounds. Sembrava buffo che dovessi chiedere il suo permesso dal momento che era poco più grande di me, ma non volevo fare niente di nascosto, quindi scrissi a mio padre, a Bordeaux, dove la società aveva i suoi uffici francesi. La lettera però mi tornò indietro proprio la mattina del matrimonio». «L'ha mancato allora?» «Sì, signore, perché era partito per l'Inghilterra poco prima che arrivasse». «Ah, un vero peccato. Quindi il suo matrimonio fu fissato per il venerdì, si sarebbe svolto in chiesa?» «Sì, signore, ma una cerimonia molto tranquilla. Doveva essere alla chiesa del Salvatore accanto a King's Cross e poi saremmo andati a mangiare al St. Pancras Hotel. Osmer venne a prenderci in carrozza, ma, dato che eravamo in due, fece salire noi e lui prese un calessino che per caso era l'unica altra carrozza nella strada. Arrivammo in chiesa per prime e quando giunse il calessino aspettavamo che scendesse, ma non lo fece. E quando il vettorino scese di cassetta e controllò, non c'era nessuno all'interno. Il vettorino disse che non poteva immaginare che fine avesse fatto perché l'aveva visto salire con i propri occhi. «Questo venerdì scorso, signor Holmes, e da allora non ho più visto né sentito niente che possa far luce su cosa gli è accaduto». «Mi sembra che lei sia stata trattata in maniera davvero indegna», disse Holmes. «Oh no, signore, era troppo buono e gentile per lasciarmi così, perché per tutta la mattina non aveva fatto che ripetermi che qualunque cosa accadesse avrei dovuto essergli fedele e che se anche fosse sopraggiunto un evento imprevisto a separarci, dovevo sempre ricordare che ero impegnata con lui e che prima o poi sarebbe venuto a chiedermi di mantenere la promessa. Sembravano discorsi strani per la mattina di un matrimonio, ma quello che è successo dopo sembra dargli un significato». «Questo è certo. Dunque la sua opinione è che gli sia capitata qualche catastrofe imprevista». «Sì, signore, credo che presentisse qualcosa di pericoloso o altrimenti non mi avrebbe parlato in quel modo, e credo che gli sia accaduto ciò che si aspettava». «Ma non ha idea di cosa possa essersi trattato». «Nessuna». «Un'altra domanda. Come l'ha presa sua madre?» «Era arrabbiata e ha detto che non dovevo mai più parlare della faccenda». «E suo padre gliel'ha detto?» «Sì, e mi è sembrato che anche lui pensasse come me che era successo qualcosa e che avrei sentito ancora notizie di Osmer. Come disse, che interesse poteva avere qualcuno a portarmi ai gradini dell'altare e poi lasciarmi? Ora, se avesse preso in prestiti i miei soldi o se mi avesse sposato e si fosse intestato il mio denaro, ci sarebbe potuta essere una qualche ragione, ma Osmer era molto indipendente in fatto di soldi e non ha mai preso nemmeno uno scellino dei miei. E allora cosa può essere accaduto? E perché non può scrivere? Pensarci mi fa diventare matta e la notte non riesco a chiudere occhio». Tirò fuori un fazzolettino dal manicotto e iniziò a singhiozzare in modo disperato. «Darò un'occhiata al caso per lei», disse Holmes alzandosi, «e sono certo che arriveremo a qualche risultato definitivo. Ora, lasci a me il peso della faccenda e non indugi ancora su di esso. Soprattutto cerchi di far sparire il signor Osmer Angel dalla sua memoria così come è scomparso dalla sua vita». «Allora, pensa che non lo rivedrò?» «Temo di no». «Dunque, cosa gli è successo?» «Lascerà a me questo interrogativo. Vorrei intanto che me lo descrivesse accuratamente e mi desse qualche sua lettera». «Ho messo un annuncio per lui nel Chronicle di sabato scorso», disse. «Ecco la ricevuta e quattro delle sue lettere». «Grazie. Lei dove abita?» «Al numero 31 di Lion Place, Camberwell». «Ho capito che non ha mai saputo l'indirizzo del signor Angel. Dove lavora suo padre?» «Viaggia per la Westhouse Marbank, la grossa ditta importatrice di Chiaretta a Fenchurch Street». «Grazie». Ha esposto il problema con molta chiarezza. Lasci qui le carte e ricordi il consiglio che le ho dato. Si lascia il passato alle spalle e non si faccia affliggere la vita. «Lei è molto gentile, signor Holmes, ma non posso farlo. Sarò fedele ad Osmer. Quando tornerà, mi troverà pronta». «A dispetto dell'assurdo cappello e della faccia vacua, c'era qualcosa di nobile nell'ingenua fiducia della nostra visitatrice che ci induceva al rispetto». Lasciò sul tavolo il suo pacchettino di lettere e se ne andò, con la promessa di tornare appena fosse stata convocata. Sherlock Holmes sedette in silenzio per qualche minuto, con le punte delle dita ancora congiunte, le gambe allungate di fronte a sé, lo sguardo rivolto al soffitto. Poi prese dalla rastrelliera la sua vecchia e bisunta pipa d'argilla, che per lui era fonte di ispirazione, e dopo averla accesa si adagiò sulla sua sedia, circondato da spesse nuvolette di fumo azzurrino ed espressione di infinito langore dipinto sulla faccia. «Un soggetto interessante quella ragazza», osservò. «Trovo molto più interessante lei che non il suo piccolo problema che a proposito è estremamente banale. Se consulta il mio schedario troverà casi analoghi. Ad Handover nel 77 c'era qualcosa di simile all'Aia l'anno scorso. Per vecchia che sia l'idea, comunque, questo caso presenta uno o due dettagli che mi sono nuovi. La ragazza è la più istruttiva. Sembrava leggere in quella fanciulla molte cose che mi erano invisibili», osservai. «Più che non vederle non le ha notate, Watson. Non sapeva dove guardare, così si è perso tutto quello che è importante. Non riuscirò mai a farle capire l'importanza delle maniche, quanto possano essere rivelatrici le unghie del pollice o gli elementi importanti che può dedurre da un laccio da scarpe. Ora, cosa ha dedotto dall'apparenza di quella donna? Me la descriva». «Bene, aveva un cappello a larga tesa a color lavagna, con una piuma rosso mattone, un giacchettino nero con delle perline nere cucite sulla stoffa e una frangia di palline di giaietto nero. Aveva un vestito marrone, più scuro della tinta caffè, bordato con una piccola striscia di felpa viola al collo e alle maniche. Guanti sul grigio, con un buco sull'indice destro. Non ha osservato i suoi stivali. Portava dei piccoli orecchini rotondi d'oro, appendente, e in generale aveva l'aria di una persona benestante, anche se un po' volgare e alla buona». Sherlock Holmes batte piano le mani insieme sogghignò. «Parola mia, Watson. Sta facendo progressi meravigliosi. Se l'è cavata davvero benissimo. È vero che le sono sfuggiti tutti quei particolari importanti, ma ha centrato il metodo e ha buon occhio per il colore. Non si fidi mai dell'impressione generale, ragazzo mio, ma si concentri sui dettagli. Per prima cosa, in una donna guardo le maniche, in un uomo è meglio forse guardare le ginocchia dei calzoni. Come lei ha osservato, questa donna aveva della felpa sulle maniche, che è un utile materiale per conservare le tracce. La doppia linea, poco sopra il polso, dove una dattilografa lo poggia sul tavolo, si scorgeva benissimo. La macchina da cucire, del tipo a mano, lascia un segno simile, ma solo sul braccio sinistro e dalla parte opposta al pollice, invece che dalla parte più ampia, come in questo caso. Guardandola poi in viso e osservando il solco di un pancinea ai due lati del naso, ho fatto l'osservazione sulla miopia e sul suo modo di dattilografare, cosa che è sembrata sorprenderla molto. Ma sorpreso anche me? Ma certamente era ovvio. Sono rimasto molto sorpreso e meravigliato, osservando che gli stivali che indossava, anche se erano molto simili fra loro, erano spaiati. Uno aveva una leggera decorazione sulla punta e l'altro no. In uno, su cinque bottoni, solo i due più in basso erano allacciati, mentre nell'altro lo erano il primo, il terzo e il quinto. Ora, quando vedo una giovane donna abbastanza ben vestita, che esce di casa con gli stivali spaiati e semi abbottonati, non c'è bisogno di una gran deduzione per dire che se ne sta andando in gran fretta. E cos'altro? Domandai, interessatissimo, come lo ero sempre agli incisivi ragionamenti del mio amico. Ho notato accidentalmente che aveva scritto un biglietto prima di lasciare casa, ma dopo essere completamente vestita. Avrà notato che il guanto destro era lacerato sull'indice, ma non ha apparentemente visto che sia il guanto che il dito erano macchiati di inchiostro viola. Aveva scritto in gran fretta e intinto la penna troppo in profondità. Deve essere stato questa mattina o la macchia non sarebbe rimasta così nitida sul dito. Tutto ciò è spassoso, anche se piuttosto elementare, ma torniamo ai fatti, Watson. Le spiacerebbe leggermi l'annuncio con la descrizione del signor Osmer Angel? Accostai il fogliettino di carta alla luce. «E' scomparso, diceva alla mattina del 14, un signore di nome Osmer Angel. Altezza circa un metro e settantacinque, abbastanza robusto, carnato giallastro, capelli neri un po' radi al centro, folti favoriti neri e baffi neri, occhiali colorati, leggero difetto di linguaggio. Quando è stato visto l'ultima volta portavo una redingotte nera foderata di seta, panciotto nero, catena d'oro, calzoni grigi di tweed stile Harris, ghette marroni, sopra stivaletti con elastico laterale. Conosciuto per aver avuto un buon lavoro in un ufficio all'Edenhall Street. Chiunque abbia...» «Sarà fatto», dice Holmes. «Quanto alle lettere», proseguì dandogli una scorsa. «Sono oltremodo banali. Non c'è il minimo indizio sul signore Angel, eccetto che una volta cita Balzac. C'è un aspetto insolito, comunque, che l'avrà senz'altro colpita. «Sono scritta a macchina», osservai. «Non solo questo, ma la firma è dattilo scritta. Osservi la precisione di quel Hosmer Angel sul fondo. C'è una data, come puoi vedere, ma nessuna giunta oltre all'Edenhall Street, il che è assai vago. Il fatto della firma è molto suggestivo, anzi, potremmo dire conclusivo». «In che senso?» «Mio caro amico, è possibile che non si renda conto dell'importanza che ha in questo caso?» «Veramente no? A meno che non voglia disconoscere la sua firma, in caso venga denunciato per rottura di promessa?» «No, non era quello il punto. Comunque, scriverò un paio di lettere che dovrebbero risolvere la questione. Una è per una società nella City, l'altra per il patrigno della signorina è il signor Windybank, chiedendogli se può incontrarci qui alle sei domani pomeriggio. Sarebbe meglio intrattenere rapporti con i parenti maschi. E adesso, dottore, non possiamo fare niente finché non arriveranno le risposte a queste lettere, quindi, per il momento, possiamo lasciare la pratica in sospeso». Avevo avuto così tanti motivi per credere nei sottili poteri di ragionamento e nella straordinaria energia in azione del mio amico, che ritenni dovesse avere ottimi motivi per il modo sicuro e distaccato con cui trattava lo strano mistero che era stato chiamato a decifrare. Solo una volta lo avevo visto fallire, nel caso dell'eredi Bohemia e della fotografia di Irene Adler. Ma quando guardo indietro al misterioso caso del Segno dei Quattro e alle straordinarie circostanze legate a uno studio in rosso, sento che dovrebbe essere davvero uno strano groviglio quello che Holmes non riuscirebbe a districare. Lo lasciai allora a tirare boccate dalla sua pipa nera di argilla con la convinzione che, quando fossi tornato alla sera seguente, l'avrei trovato con in mano tutti gli indizi che avrebbero permesso di svelare l'identità dello scomparso sposo della signorina Mary Sutherland. A quel tempo, un caso medico molto grave teneva occupata la mia attenzione e per tutto il giorno fui occupato accanto al letto di un sofferente. Erano quasi le sei quando riuscì a liberarmi e potei saltare in una carrozza diretta a Baker Street, mezzo dispiaciuto di arrivare in ritardo per assistere al denouement del piccolo mistero. Trovai però Holmes da solo, mezzo addormentato, con la sua lunga e magra figura raggomitolata nella sua poltrona. Una formidabile distesa di boccette e provette, che emanavano un pungente odore di acido cloridrico disinfettante, mi dissero che aveva passato la sua giornata a fare quegli esperimenti chimici che gli erano tanto congeniali. «Beh, l'ha risolto?» chiesi entrando. «Sì, era bisolfato di ossido di bario.» «No, no, il mistero!» esclamai. «Ah, quello! Stavo pensando al sale su cui stavo lavorando. Non c'è nessun mistero nella faccenda, anche se, come ho detto ieri, alcuni dei dettagli sono di qualche interesse. L'unico guaio è che non esiste una legge, temo, che possa toccare il mascalzone.» Allora chi era? E qual era il suo scopo piantando in asso la signorina Sutherland? La domanda mi era appena uscita di bocca e Holmes non aveva ancora aperto le labbra per replicare, quando sentimmo un passo pesante nel corridoio e un colpetto alla porta. «Questo è il patrigno della ragazza, il signor James Windybank», disse Holmes. «Mi ha scritto per dirmi che sarebbe stato qui alle sei. Avanti!» L'uomo che entrò era un tipo robusto, di taglia media, di circa trent'anni, sbarbato, carnagione e giallastra, con maniere moderate e subdole e un paio di occhi grigi straordinariamente acuti e penetranti. Gettò su entrambi un'occhiata interrogativa, poggiò sulla credenza il cilindro lustro e, con un lieve inchino, sedette furtivo sulla sedia più vicina. «Buonasera, signor James Windybank», disse Holmes. «Suppongo che sia sua questa lettera d'attilo scritta con la quale mi fissa l'appuntamento per le sei». «Sì, signore, temo di essere un po' in ritardo, ma non sono del tutto padrone di me stesso, sa? Mi spiace che la signorina Sutherland l'abbia disturbata per questa cosa da poco, perché penso infatti che sia assai meglio non lavare panni simili in pubblico. È venuta contro la mia volontà, ma è ragazza molto eccitabile e impulsiva, come avrà notato, e non è facilmente controllabile quando si è messa qualcosa in testa. Naturalmente non avevo niente in contrario dal momento che lei non è collegato con la polizia ufficiale, ma non è piacevole che una sventura familiare come questa venga divulgata all'esterno. Inoltre è una spesa inutile, perché come potrebbe lei trovare questo Osmer Angel?» «Al contrario», rispose tranquillamente Holmes. «Ho tutte le ragioni per credere che riuscirò a rintracciare il signor Osmer Angel». Il signor Windy Banks sobbalzò violentemente e lasciò cadere i guanti. «Sono rallegrato di sentirlo», disse. «È una cosa curiosa», osservò Holmes. «Come una macchina da scrivere abbia in effetti tanta individualità quanto alla grafia umana. A meno che non siano del tutto nuove, non esistono due che scrivono esattamente allo stesso modo. Alcune lettere si logorano più di altre e qualcuna si logora solo da un lato. Adesso osserverai in questo suo biglietto, signor Windy Banks, che c'è qualche piccolo difetto sopra le «e» e una lieve imperfezione nella estremità della «re». Ci sono altre 14 caratteristiche, ma queste sono le più evidenti. «In ufficio sbrigiamo tutta la nostra corrispondenza con questa macchina da scrivere e non c'è dubbio che sia un po' logora», rispose il nostro ospite, scrutando intensamente Holmes con i suoi occhietti penetranti. «E adesso le mostrerò qualcosa di veramente degno di attenzione, signor Windy Banks», continuò Holmes. «Sto pensando di scrivere uno di questi giorni un'altra breve monografia sulla macchina da scrivere e la sua relazione col crimine. È un argomento al quale ho dedicato un po' d'attenzione. Ho qui quattro lettere che danno l'impressione di venire dall'uomo scomparso. Sono tutte battute a macchina. E in ognuna di esse non solo le «e» hanno un difetto e le «r» imperfezioni, ma se vorrà utilizzare la mia lente di ingrandimento potrà osservare che in tutte sono presenti le altre 14 caratteristiche a cui alludevo». Il signor Windy Banks scattò dalla sedia e prese il cappello. «Non posso perdere tempo con questi discorsi stravaganti, signor Holmes», disse. «Se può rintracciare quell'uomo, lo rintracci e poi me lo faccia sapere». «Certamente», rispose Holmes, passandogli accanto e chiudendo la porta chiave. «Le comunico allora che l'ho rintracciato». «Cosa? Dove?», urlò il signor Windy Banks, diventando pallido e guardandosi intorno come un topo in trappola. «Oh, andiamo, è inutile, proprio inutile», disse Holmes in tono garbato. «Non c'è scampo, signor Windy Banks. La cosa è assolutamente troppo trasparente ed è stato davvero un brutto complimento quando ha detto che per me sarebbe stato impossibile risolvere una questione così banale. Va bene, si sieda e parliamone». Il nostro ospite crollò sulla sedia, col viso spettrale e la fronte lustra di sudore. «No, non è perseguibile», farfugliò. «Demo proprio che non lo sia, ma detto fra noi, Windy Banks, è stato davvero lo scherzo più crudele, meschino, egoistico e malvagio che io abbia mai visto. Ora mi faccia ricapitolare il corso degli eventi e mi corregga, se sbaglio». L'uomo stava raggomitolato sulla sedia, a testa china sul petto come chi è completamente distrutto. Holmes appoggiò un piede all'angolo della base del caminetto e appoggiandosi all'indietro con le mani in tasca cominciò a parlare, più a se stesso sembrava che a noi. «L'uomo sposò una donna molto più anziana di lui per soldi», disse, «e si godeva anche i soldi della figlia fin tanto che viveva con loro. Era una somma considerevole per gente nella loro posizione e la sua perdita avrebbe fatto una seria differenza. Valeva la pena uno sforzo per tenerseli. La figlia era di carattere buono e amabile, ma emotiva e sentimentale ed era chiaro che per i suoi pregi e la sua piccola rendita non sarebbe rimasta nubile a lungo. Ora, il suo matrimonio avrebbe significato naturalmente una perdita di 100 sterli nell'anno, allora cosa fa il patrigno per impedirglielo? Alla cosa più ovvia è di tenerla a casa e di proibirle la compagnia di persone della sua età. Ma presto scopre che non può funzionare per sempre. Lei diventa agitata, insiste sui suoi diritti e infine annuncia la sua decisione di recarsi ad un certo ballo. Allora che fa quel furbo del patrigno? Concepisce un piano che rende più onore al suo cervello che al suo cuore. Con la complicità e l'aiuto della moglie si traveste, si copre quegli occhi penetranti, con gli occhiali scuri, si mette baffi e folti favoriti, abbassa la sua voce squillante ad un insinuante sussurro e, doppiamente sicuro anche per la miopia della ragazza, si presenta come il signor Osmer Angel e tiene alla larga i corteggiatori, corteggiandola lui stesso. Era solo uno scherzo all'inizio, gemette il nostro ospite. Non avremmo mai pensato che si sarebbe lasciata prendere così. Molto probabile. Comunque sia, la ragazza era convinta che il patrigno fosse in Francia e il sospetto dell'inganno non la sfiorò nemmeno per un istante. Era losingata dalle attenzioni di quell'uomo e l'effetto era amplificato dall'ammirazione che la madre esprimeva nei suoi confronti. Poi il signor Angel cominciò le sue visite, poiché ovviamente le cose dovevano andare avanti il più possibile se si voleva produrre l'effetto desiderata. Ci furono incontri e un fidanzamento che avrebbe assicurato che i sentimenti della ragazza non si sarebbero rivolti a nessun altro. Ma il raggiro non si poteva reggere all'infinito. Quei pretesi viaggi in Francia cominciavano a diventare scomodi. La cosa da fare era chiaramente portare a conclusione la storia in un modo così drammatico che la ragazza ne sarebbe rimasta traumatizzata e almeno per un certo periodo non avrebbe preso in considerazione nessun altro pretendente. Di qui i giuramenti di fedeltà pronunciati sulla Bibbia e le allusioni alla possibilità che qualcosa potesse succedere proprio quella mattina del matrimonio. James Windybank voleva che la signorina Sutherland si sentisse così legata ad Osmer Angel e così preoccupata per il suo destino che almeno per dieci anni non avrebbe ascoltato un altro uomo. La condusse quindi fino alla porta della chiesa e poi siccome non poteva andare oltre vantaggiosamente sparì utilizzando il vecchio trucco di entrare in carrozza da uno sportello e uscire dall'altro. Credo che questa sia la catena degli eventi signor Windybank. Il nostro visitatore aveva riacquistato un po' della sua sicurezza mentre Holmes stava parlando e a quel punto si alzò dalla sedia con un ghigno freddo sulla faccia pallida. Può essere o può non essere signor Holmes disse ma se lei è così astuta dovrebbe esserlo abbastanza da sapere che adesso è lei che sta infrangendo la legge non io. Fin dall'inizio non ho fatto nulla di perseguibile ma tenendo chiusa quella porta lei potrebbe essere denunciato per sequestro di persona. La legge come lei dice non può toccarla rispose Holmes girando la chiave spalancando la porta. Non c'è mai stato un uomo che meriti più di lei una punizione. Se la ragazza avesse un fratello o un amico dovrebbero prenderla frustate. Per Giove continuò avvampando nel vedere quel ghigno sgradevole sul viso dell'uomo. Non fa parte dei miei doveri verso un cliente ma qui c'è un frustino e credo proprio che trarrò gran piacere nel... Fece due rapidi passi verso il frustino ma prima che potesse afferrarlo ci furono dei passi precipitosi per le scale. Lo sbattere forte della porta e dalla finestra potemmo vedere il signor James Windybank correre al massimo della sua velocità lungo la strada. È proprio un farabutto spietato disse Holmes ridendo e piombando ancora una volta nella sua poltrona. Quell'individuo passerà da un crimine all'altro fino a quando non farà qualcosa di molto brutto e finirà sul patibolo. Il caso sotto certi aspetti non è stato completamente privo di interessi. Non sono del tutto riuscito a seguire tutte le tappe del suo ragionamento. Osservai. Bene. Naturalmente era evidente fin dal principio che questo signor Osmer Angel doveva avere una ragione precisa per comportarsi in quel modo strano ed era ugualmente evidente che l'unico uomo che avrebbe avuto un profitto da quello che si può vedere era il patrigno. Poi il fatto che i due uomini non erano mai insieme ma che uno appariva quando l'altro non c'era era suggestivo. Così come lo erano gli occhiali scuri e la voce particolare entrambi davano l'idea di un travestimento e i cespugliosi favoriti. Tutti i miei sospetti erano confermati dall'insolito comportamento di battere a macchina anche la firma che certo significava che la sua grafia era tanto familiare alla ragazza da fargliela riconoscere all'istante. Come vede tutti questi fatti isolati insieme con altri di minor importanza puntavano nella stessa direzione. E come li ha verificati? Una volta individuato il mio uomo è stato facile ottenere la conferma. Conoscevo la ditta per cui lavorava quest'uomo. Sulla base della descrizione pubblicata sull'annuncio ho eliminato tutto quanto poteva costituire un travestimento, i favoriti, gli occhiali, la voce. Poi l'ho mandato alla ditta con la richiesta di informarmi se la descrizione corrispondeva ad uno dei loro rappresentanti. Avevo già notato la peculiarità del dattilo scritto e scrissi a quell'individuo al suo indirizzo chiedendogli se sarebbe potuto venire qui. Come mi aspettavo, la sua risposta era scritta a macchina e rivelava le stesse lievi ma caratteristiche imperfezioni. Contemporaneamente alla sua risposta mi arrivò anche una lettera dalla Westhouse & Marbank, di Fenchurch Street, nella quale mi comunicavano che la descrizione corrispondeva in ogni aspetto ad un loro dipendente, James Windybank. Voila tu. E la signorina Sutherland? Se glielo dicessi non mi crederebbe. Lei forse ricorderà l'antico proverbio persiano. C'è pericolo per chi ruba il cucciolo della tigre e anche per chi ruba le illusioni di una donna. C'è in affiz lo stesso buonsenso di Orazio e la stessa conoscenza del mondo.